Antonio, facciamo un'analisi di questi fatti di cronaca nella nostra città, mi riferisco ai furti che ci sono stati in pieno centro. Che cosa c'è che non va? Purtroppo questo denota il momento pesante che sta attraversando la città di Crotone. La microcriminalità forse si è riorganizzata, bisogna pensarla così. Sì, noi diciamo ci sentiamo sempre vicino alle forze dell'ordine, quindi in questa città si vive abbastanza serenamente. Però questi sono fatti che denotano un momento di tristezza, di preoccupazione e questo porta a pensarsi su un attimo. Non nascondo che nei prossimi giorni mi sono già riservato di andare a fare una chiacchierata e col questore, e col comandante dei carabinieri, proprio per cercare di dare un segnale di continuità e di maggiore sorveglianza al territorio, nelle ore di chiusura delle attività, soprattutto nel primo pomeriggio e nelle prime ore della mattina. È importante incontrare le forze dell'ordine, i comandanti, il questore e il comandante dei carabinieri, perché abbiamo bisogno di sicurezza nella nostra città e nel nostro territorio. Ma come Conf Commercio hai incontrato i commercianti che sono stati oggetto di queste rapine? Noi li incontriamo tutti i giorni i commercianti. Purtroppo in questo momento non mi piace andare per prendere pubblicità, negativa soprattutto. È normale che la nostra vicinanza ce l'avranno e ce l'avranno insieme alle forze dell'ordine. Questo è quello che mi preoccupa di più. Noi dobbiamo cercare sempre di guardare al lato positivo, il mezzo bicchiere pieno. Io lo dico continuamente. Con il comando dei carabinieri abbiamo un protocollo di intesa nazionale, quindi lo porteremo anche sul territorio. Vogliamo fare prevenzione per curare ogni male in questa città. Questo è il nostro obiettivo, il mio prima di ogni altro. Quindi cercheremo insieme alle forze dell'ordine di essere sempre più presenti sul territorio proprio per dare quel senso di tranquillità che ci deve appartenere a noi che facciamo attività economica su questo territorio. Per evitare queste situazioni in città, le telecamere non sarebbero una buona soluzione per avere il controllo? Sì, questo bisognerebbe chiederlo all'amministrazione comunale. Non è da oggi, lo sappiamo, è da tanto tempo che ne facciamo richiesta. E purtroppo questo non avviene. Speriamo che questi atti diano una spinta ulteriore a questo segnale che diamo sempre quotidianamente all'amministrazione. Ci tengo a ripeterlo. Abbiamo la necessità che tutti quanti facciamo qualcosina in più, proprio per migliorare le sorti di questa città. Un tavolo istituzionale sarebbe importante per discutere della sicurezza, ma anche per avviare questo servizio delle telecamere, quindi della videosorveglianza? Ma noi ogni anno facciamo la giornata della legalità. Quindi noi ci teniamo, non è da oggi. Poi vediamo impegnate le forze dell'ordine sempre contro tutti. È normale che anche loro hanno bisogno di un supporto. Noi accendiamo le nostre luci per dare un segnale di positività, di sicurezza all'interno del territorio. Poi c'è anche l'amministrazione che deve fare la sua parte. Se vanno attivate le telecamere, questo ci deve essere prima di ogni altra cosa. Se ci vuole un servizio di vigilanza comunale, quello ci deve essere. Quindi si devono applicare per poi gestire le forze che hanno a disposizione.